Ufalo, ufalo, si trasforma in un razzo missile con circuiti di mille valvole tra le stelle. Sprinta e va, mangia libri di cibernetica insalate di matematica e a giocare su Marte va. Lui respira nell'aria cosmica, è un miracolo d'elettronica ma un cuore umano ha. Ma chi è? Chi è? Ma chi è? Raggi laser che sembra un fulmini, è protetto da scudi termici. Sentinella, lui ci fa. Quando schiaccia un pulsante magico, lui diventa un ipergalattico, lotta per l'umanità. Ufalo, 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 si trasforma in un razzo missile con circuiti di mille valvole tra le stelle. Sprinta e va, lui respira nell'aria cosmica, è un miracolo d'elettronica ma un cuore umano ha. Ma chi è? Ma chi è? Ufalo, 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 ufalo. Sono ancora qui.